Quando vuoi puoi partire. 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 Sei scesa in P11. Il serbatoio è praticamente vuoto. 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 Un minuto. 31,8. 320,1 km orari. Tutto a posto. Tutto a posto. Siamo scesi in P13. 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 scesi in P13. Siamo scesi in P13. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Siamo scesi in P13. Siamo scesi in P13. Siamo scesi in P13. Siamo scesi in P15. Siamo scesi in P15. Siamo scesi in P13. Siamo scesi in P15. Saffe. Siamo scesi in P14. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei scesa in P-15. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatto. Siamo pronti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo scesi in P-15. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.